Sono pochi minuti per invitarvi a leggere un racconto di Hitworn che mi è capitato di leggere un po' per caso, tratto dalla raccolta Racconti raccontati due volte, insomma, ho cominciato a passarlo un po' dall'inizio, è il secondo che ho trovato nella raccolta, che si intitola Domenica in casa. Perché? In questo racconto non c'è quasi una storia, insomma, facciamo finta che sia un tema che si può dare a un ragazzo, non so se si danno ancora i temi, insomma, è il titolo di un tema, insomma, dalla finestra della tua casa vedi la chiesa, scrivi, oppure, non so, un argomento che si può dare così in un corso di scrittura, insomma, Scrivete, insomma, un qualcosa, in questo caso osservate una chiesa, insomma, dalla vostra finestra vedete una chiesa la domenica, ma anche non solo la domenica, ma dita. Il tutto si limita a questo, insomma, no? Però nelle mani di uno scrittore è interessante vedere cosa viene fuori. Non c'è solo una descrizione che è molto puntuale, molto poetica, di una vita che c'è dentro quella chiesa, intorno a quella chiesa, ma anche di un immaginario che c'è all'interno della chiesa, perché lui la guarda dalla finestra ma non vede quello che succede dentro. Ma c'è anche tutta una risonanza emotiva, c'è la sua anima proiettata in questa visione, in questa vita che si svolge lì e che lui vede svolgere e la osserva. Questa mescolanza, no? Di capacità di osservazione, di cogliere i particolari e questa capacità di sentire quello che descrive, quindi non limitarsi a una pura descrizione di un'immagine, insomma, no? Ma a cogliere la vita che c'è dentro quell'immagine e poi a farci intuire la vita che c'è dentro chi scrive, insomma, no? Il risvolto personale di chi osserva quella situazione e il tutto è messo in una lingua, all'interno di una composizione che trovo perfetta, insomma. L'arte di scrivere poi in realtà è questa, no? Cioè la scrittura ti emoziona perché è scrittura, non tanto per la storia che ti dice, insomma. Sì, a volte serve anche per descrivere una storia, però la scrittura vera è quella che ti emoziona anche se non c'è al suo interno una storia. E' il modo di vedere, è il modo di far sentire l'emotività, i sentimenti, come lo si osserva. E qui, insomma, no? È interessante dire, ma insomma, di fronte a questa situazione cosa riuscirai a tirar fuori io, no? Esercizio, no? Cosa tirerei? Cosa scriverei io di fronte a una sollecitazione di questo tipo? Ecco. E cosa invece è riuscito a tirar fuori uno scrittore come Heath Ward, insomma? Un scrittore che tra l'altro sto scoprendo che non conoscevo bene fino a qualche anno fa, insomma. Amico di Melville, tra l'altro. Vorrei stimolarvi ad ascoltare questo racconto, se non volete leggerlo, e anche ad ascoltarlo ad occhi chiusi, insomma, no? A immaginare, oppure anche a lasciarvi andare semplicemente al suono delle parole, no? A come lui descrive questa scena. È un racconto che dura una ventina di minuti, insomma, quindi si può tranquillamente ascoltare anche ad occhi chiusi, no? Secondo me a un certo momento sembra quasi di sentire una musica, ed è una traduzione, quindi non c'è neanche il... Così, non possiamo neanche gustare la lingua originale, insomma, la musica che può aver avuto la lingua originale. Come proprio all'interno del linguaggio musicale, no? È come ascoltare proprio il linguaggio dei suoni, no? Nel momento in cui lo astraiamo anche da una forma, no? Che dire, più che non su grandi opere, io trovo che su cose di questo tipo si rivela l'arte di uno scrittore, insomma, la bravura di uno scrittore, no? E quando va sulle piccole cose, insomma, no? Quando riesci a ricavare mondi da piccole cose, è lì che possiamo trovare o vedere meglio l'arte, insomma, no? Nell'opera monumentale spesso poi giocano altre cose. Invece questa è proprio, invece, bravura pura, non virtuogismo, insomma. È uno scavare in profondità, più che non andare sul virtuogismo, sul gioco, sul... Il ritmo, in questo caso, è lento. È una cosa, un'atmosfera calma, un endometro che ci avvolge. Al di là di ogni nostra credenza, confessionalità, no? È quello che lo scrittore riesce a vedere, a cogliere e a farsi partecipare. È un momento in cui ci si avvicina anche alla poesia, insomma, no? Bene, saluto.